La domanda sarebbe se in mezzo a tutte le situazioni in questo mondo oggi, se possiamo o dobbiamo comunque mantenere la positività. La mia risposta è sì, dobbiamo. Dobbiamo capire la vita, dobbiamo capire che ci sono alti e bassi nella nostra vita individuale. Ci sono i momenti che i nostri pensieri sono buoni pensieri, ci sono momenti che non ci sono buoni pensieri. Lo stesso succede nella società. Immagina la società come un grande individuo, una entità. Ci saranno alti e bassi in questa entità, nella mente di questa entità e ci saranno situazioni che possiamo dire negative, situazioni positive, però alla fine tutto viene per il meglio. Così anche se c'è una situazione difficile, possiamo pensare che c'è da imparare, c'è da sviluppare. E più importante di tutto, dobbiamo sempre mantenere il nostro equilibrio interiore. Quello viene delle nostre pratiche, le pratiche della meditazione, del yoga, le pratiche che ci mantengono in contatto con quella profonda pace interiore, con quell'entità infinita che c'è dentro di noi. Questo è fondamentale. Grazie.